Non si fermano le attività di Anteas, l'associazione di promozione sociale operativa a Gubbio e a Gualdo Tadino, che con l'arrivo della stagione autunnale propone una serie di nuove iniziative, tutte finalizzate all'invecchiamento attivo della popolazione. La prima che ha registrato il tutto esaurito è la raccolta delle castagne e la visita alla Casa Museo di Michelangelo Buonarroti, prevista il prossimo 29 ottobre. Un appuntamento in collaborazione con l'associazione La Chiocciola e la Scuola Parentale del Fare del Sapere di Ponte d'Assi, che mira a coinvolgere genitori, nonni e bambini. Noi ormai sono una decina d'anni che facciamo questa iniziativa, andando a raccogliere le castagne per socializzare e stare insieme, nonni, nepoti. Anno scorso avevamo anche un bisnonno e quindi anche quest'anno avremo circa 14-15 ragazzi di una scuola, della scuola parentale di Ponte d'Assi e qualche nepote, che si aggrega con i nonni oppure... e andremo a raccogliere queste castagne perché se il tempo è bello è una cosa eccezionale. Ha preso il via anche il progetto Radici e Sapori, un viaggio nella cucina Umbra che prevede vari incontri in cui saranno realizzati i piatti della tradizione. E anche questo è una prosecuzione di 15 giorni fatti due anni fa, dove la mattina e i nonni andavano a preparare le colazioni di una volta. Quello che offriva la cantina, l'orto, il pollaio, le robe genuine. Altre due o tre iniziative che saranno i mercoledì, il prossimo sarà la polenta sulla spianatora. La polenta sulla spianatora una volta in casa si mangiava tutti insieme intorno, ognuno prendeva un pezzetto suo, in cima c'era una costarella, una salsiccia, qualcosa del genere. Quindi questo sarà il secondo step, poi ne faremo un altro con friccò e crescia, che è la cosa di Gubbio, tra le tradizioni nostre. La gente dalla mattina alla sera, la maggior parte, è sola. E quindi lo stare insieme, fare una chiacchierata, una partita a carte, qualche esercizio per mantenere la memoria. Anche questo non sono ormai tre o quattro anni che facciamo questa attività, tutti i mercoledì, dalle tre e mezza alle cinque e mezza, presso l'oratorio di Padule.